Proprio quando vedeva il futuro stadio della Fiorentina allontanarsi verso Campi e La Piana, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha deciso di dare l'accelerata, provando ad inserire nel decreto semplificazioni che il governo varerà a breve, anche una norma per far cadere i vincoli di impianti come il Franchi, ma non solo, seguendo l'impostazione di Rocco Commisso, per il quale... Lo stadio non è un monumento per me, scusate ragazzi, si offende qualcuno, ma non è un monumento se la gente viene là e non guarda la partita. Prima è per i tifosi, è dopo le strutture, ragazzi, ok? Da salvaguardare dunque al Franchi ci sono solo alcuni aspetti, le scale elicoidali, la copertura della tribuna, la torre di maratona, tutto il resto, secondo questa impostazione, può essere modificato. L'archistarra fiorentina Marco Casamonti, colui che tra l'altro ha concepito il centro sportivo che sorgerà a Bagnarripoli, aveva già preparato un progetto accurato anche per lo stadio di Campo di Marte, partendo dall'esperienza che lui stesso ha fatto a Tirana, dove la nuova casa della nazionale è stata inaugurata qualche mese fa, costruendola proprio sul vecchio impianto. Anche qui c'erano delle strutture da salvaguardare, l'ingresso monumentale, che è stato smontato pietra per pietra, ripulito con una tecnica innovativa e poi incastonato nel nuovo impianto. Questo stadio, 80 anni fa, alla fine degli anni 30, era stato disegnato dall'architetto Gerardo Bosio che aveva disegnato tutto l'asse principale della città. Quindi è un omaggio a questo straordinario, bravissimo architetto. Non potevamo fare altro che non requalificare smontandola pietra a pietra la sua monumentale, straordinaria, bellissima facciata e concependo anche lo stadio intorno a questa. Cioè direi che è lo stadio intorno allo stadio originario. Quindi un grande omaggio. È una sorta di matrioska, cioè una piccola bambolina che è la facciata monumentale intorno alla quale abbiamo costruito tutto il resto.